I giornalisti certamente oggi sono convinti di scendere in campo e buscarle, non so perché qualcuno di loro mentre erano negli sfogliatoi parlando mi dicevano così, siamo convinti di buscarle, ma io ho l'impressione invece che Massimo che è al solito vostro, tanti calci li darete, poi oggi per un impegno contro la droga ce la metterete tutta. Oggi è veramente il caso di dirlo, l'importante è partecipare, ora a parte tutto abbiamo accettato di buon grado l'invito dell'Asi per questa grandissima iniziativa, insomma anche noi nel nostro piccolo daremo il contributo affinché appunto la manifestazione riesca e ovviamente quando c'è in campo nessuno ci tiene a perdere, anche noi ovviamente, faremo di tutto quanto meno per onorare l'impegno. Domenico non scappare, mille interviste mi hai fatto, penso che oggi è giusto che per un attimo ti domandi io qualcosa, quanti calci ha sta droga? Tantissimi calci alla droga, la manifestazione di oggi è bellissima e come diceva Massimo già prima è importantissimo partecipare, è una manifestazione bella, organizzata bene e in poco tempo, questo è anche da sottolineare. Ci accingiamo ad andare in campo, io ho risaputo che qualche calcio lo do, però oggi vediamo, starò un po' tranquillo rispetto alle abitudini. Grazie a te, in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie Carmelo e grazie a tutti voi per l'organizzazione di questo stupendo evento.